fine gara 3 a 2 sconfitta Amara per lo Ionio Volley, Maria Grazia Ciccarello ti resta rimasto l'Amara in bocca per questa partita? abbastanza anche perché comunque ci siamo portati avanti per due set comunque abbiamo combattuto la partita abbastanza bene potevamo portarci a casa questa vittoria dopo tante sconfitte amare quindi sì abbastanza ecco tu sei una delle sorprese di questa squadra sei entrato in corso insomma è sempre una veterana della Serie C quale sensazione provi? dico sono contenta di sostituire Graziella Lupica spero di sostituirla in modo dignitoso perché comunque se lo merita è una gran giocatrice sì sono la sorpresa e spero di aver fatto un buon campionato da quando sono entrato in campo e di poter portare qualche vittoria in casa grazie e complimenti grazie 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 a tutti.